Stiamo cercando vari personaggi A un certo punto Io faccio Cerchiamo Alberto Angela Tipo faccio i miei amici Oh raga ma Piero Angela è ancora vivo? Era la sera I miei amici fanno, si si ancora vivo, quanti anni ha? Cerchiamo tipo a 92-93 anni E io faccio, ah beh se li porta bene Il giorno dopo ragazzi Il giorno dopo È venuto a mancare, il giorno dopo Non dico non tra una settimana, no il giorno dopo È tipo Cioè Eh ragazzi L'ho scriptato